Luigi Boero, playmaker dei Raggi Solaris, oggi contro la seconda forza del campionato all'Olimpia Castel San Pietro avete vinto di otto, sette vittorie consecutive, ormai diciamo che siete più che una realtà per questo campionato. Sì, possiamo dire che stiamo facendo un ottimo lavoro, i risultati fortunatamente stanno arrivando, stanno arrivando alla grande e quello che è più bello stasera è dedicare la vittoria a Giorgio, sappiamo tutti chi è e vabbè un po' di commozione c'è ma è giusto dedicargliela e poi dedicare la vittoria a tutto il pubblico che ci segue ed è bellissimo giocare con questa gente che ci viene a vedere. Oggi siete stati bravi a chiudere prima la partita poi dopo quando Castel San Pietro è tornato sotto fino a meno 5, restare con la testa lì sempre molto concentrata e portarla avanti, una prova sicuramente di carattere. Sì, sinceramente è stata una delle prime partite veramente dure perché le altre bene o male ce le siamo cavate un po' più con soltezza, con facilità, stasera invece sapevamo che Castel San Pietro è una squadra che è stata fatta per vincere quindi piena di giocatori esperti, forti e quindi sapevamo che prima o poi sarebbero tornati. Sì, sono tornati e noi fortunatamente li abbiamo respinti bene insomma, li abbiamo portati a casa bene. Adesso mancano tre partite prima della pausa natalizia, avete già due punti di vantaggio sulle inseguitrici, potrebbe essere un Natale felice. Sì, speriamo di passare buone feste, ce le auguriamo, adesso non mi ricordo bene il calendario però sicuramente saranno tre partite difficili e poi cosa ci abbiamo? Due fuori casa, una in casa adesso non so perché è l'euforia della vittoria però insomma dobbiamo cercare di fare tre su tre.